Sono Lucia Ferrara e sono un'artista. Sono qui per presentarvi il progetto Never Perfect. Never Perfect prende vita qua a Vigevano in questo marzo 2023, dal 4 al 14 di marzo, presso il castello Sforzesco di Vigevano. Che cos'è Never Perfect? Never Perfect è un progetto artistico itinerante che viene svolto in tutte le città, in quasi le città italiane che rispondono alla sensibilità di questo progetto, e nasce dalla volontà di fare dell'arte una grande forma di comunicazione. Voi sapete già che l'arte è questa grande forma di comunicazione, non ho assolutamente inventato nulla, però ho deciso di raccontare quello che era anche parte del mio vissuto attraverso le mie opere. Ecco perché in questo spazio, in questa bellissima città che Vigevano, attraverso anche l'aiuto di Core e di altri partner che mi hanno accompagnato in questo viaggio, abbiamo realizzato questo percorso speciale, proprio creato per la città di Vigevano. Queste opere sono un racconto, un racconto non solo di una vicenda personale, ma anche della vicenda di tante donne, perché Core, come cooperativa e anche come associazione, si occupa da tanti anni proprio di tutelare la violenza sulle donne. Ricordo benissimo che in ogni caso, a voi che mi seguite, la violenza non è soltanto un qualcosa di femminile, la violenza è qualcosa che colpisce chiunque, devo dire. Non ha un volto, non guarda l'età, non guarda il sesso e naturalmente neanche il colore della pelle. Quindi la violenza è qualcosa che viaggia accanto a noi, che può colpire il nostro vicino di casa, che può colpire i figli dei vostri vicini di casa. La violenza è veramente qualcosa che ci vive intorno e attorno e che spesso noi facciamo fatica ad individuare. E Core ha risposto a questo messaggio, a questa mia voglia di raccontare. Insieme, quindi come vi ho detto, abbiamo costruito questo bellissimo viaggio in Castello Sforzesco, quindi vi invito tutti quanti a venire a vedere questa splendida mostra. È una mostra che parla di emozione, è una mostra che non vi regalerà delle risposte, perché io non ho risposte, come essere umano non sono neanche in grado di darvele, però è una mostra che toccherà le corde dell'anima e che vi farà tornare a casa con tantissime domande. Quindi io vi lascio volendovi dire una cosa, che la violenza è un atto che l'anima non riconosce.